Siamo pronti, tra poco comincia la finale, gara 7, siamo a che adesso gli invitino a dire chi merita, chi non merita, due grandi squadre, un grande spettacolo per il basket, in Sassene, in Rettemiglia, sono due grandi squadre, meritano di stare qui, a questo punto, neutrale, rivolgo lo spettacolo, finché è più bravo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.